eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo su call of duty world war 2 uno dei video sul titolo della sledgehammer games più importanti sul mio canale delle ultime settimane perché in questo video vi svelerò delle cose importantissime sulla campagna sul multiplayer e sulla modalità zombies questo video come quello di ieri contiene degli spoiler perché praticamente in rete sono apparsi i trofei che potremo sbloccare all'interno del gioco e grazie appunto ai trofei possiamo avere nuove informazioni sulle tre modalità del nuovo titolo targato sledgehammer games partiamo subito ed inizierei subito dal multiplayer perché grazie appunto ai vari trofei possiamo avere delle informazioni più importanti appunto all'interno del gioco ma sappiamo già cosa dovremmo andare a sbloccare potremo ad esempio sbloccare l'obiettivo soldato semplice eseguendo 10 uccisioni nel multigiocatore ci sarà anche un obiettivo andando a completare 21 sfide giornaliere oppure accedendo al primo livello del prestigio oppure anche vincendo 5 partite guerra oppure ottenendo prestigio in una divisione del multigiocatore perché come sapete ci saranno i prestigi non soltanto relativi al livellamento classico ma anche in merito alle divisioni per quanto riguarda la campagna ovviamente ci sono i vari trofei che si vanno a sbloccare al superamento delle varie missioni come la missione liberazione completa danni collaterali completa la fabbrica della morte completa colle 493 completa imboscata oppure il trofeo fino all'ultimo completa la campagna poi c'è un obiettivo molto particolare in imboscata cioè dovremmo raggiungere la postazione del cecchino senza farci individuare e questo un po' mi ricorda la famosa missione di Call of Duty 4 Modern Warfare la cosa molto interessante andando a leggere gli obiettivi della campagna è che ci sarà un'interazione con gli altri soldati quindi i soldati dotati di intelligenza artificiale ci daranno un grosso aiuto ad esempio saranno obiettivi che supereremo andando a chiedere 30 volte a Zussman i kit medici oppure a Pearson 25 volte di individuare i nemici 20 volte se chiederemo a Turner di lanciarci le munizioni 15 volte a Steeler se ci lancia invece le granate quindi ci sarà un supporto e una collaborazione tra noi e i nostri compagni di squadra perché ci consegneranno appunto kit medici, granate, munizioni ci aiuteranno ad individuare i nemici e molto altro ancora invece passando ad analizzare la modalità Zombies c'è una cosa molto ma molto importante è stata confermata grazie appunto ai trofei il nome della mappa Zombies la prima mappa di Nazi Zombies prenderà il nome di Ultimo Reich all'interno dell'Ultimo Reich ci sono degli obiettivi dove ad esempio dovremo sopravvivere fino all'ondata 20, salvare Klaus, eseguire 10 uccisioni con una singola esplosione del bombardiere costruire tutte le varie varianti dell'arma Tesla atterrare 10 zombie con la carica del Wulisling oppure dovremo anche trovare il Dottor Straub e spararli un altro obiettivo ci svela che potremmo costruire un'arma Tesla e dovremo anche sopravvivere a tre ondate di appestati in una singola partita quindi veramente tanti ma tanti contenuti per quanto riguarda le tre modalità e grazie a questi trofei abbiamo trovato informazioni importantissime su campagna Multiplayer e Nazi Zombies che vi ho riportato in questo video qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video